Grazie a tutti. C'è il nostro posto nel mondo, come è cambiata la geografia fisica, umana a seguito e dentro quello che stiamo vivendo, che tutto il mondo sta vivendo e cosa c'è di più provvidenziale di un breviario per questo confuso presente scritto da un personaggio come Corrado Augas. In comunicazione di servizio mi dicono di dirvi che per chi desidera la firma copia è pregato di restare seduto alla fine dell'incontro nella sala dove si trova sia questa dove c'è fisicamente Corrado Augas sia le altre, perché poi avremo modo di darvi la possibilità di avere la copia del libro firmata dall'autore. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera, ringrazio Elena Leuventhal, ringrazio i dirigenti di Renaudi che sono qui e mi onorano con la loro presenza, ringrazio voi che vedo e anche le persone nelle altre sale che non vedo. Questo libro è un compendio, come dice la parola breviario, di alcuni dati notevoli sulla realtà che stiamo vivendo e che io considero non solo rivoluzionaria ma di una rivoluzione che non ha uguali come portata. Qualcuno potrebbe dire, l'obiezione è ragionevole, ma come quando gli uomini strapparono il fuoco agli dèi non fu quella una rivoluzione di portata epocale, se ne parla ancora, certo, anche l'energia elettrica è stata una rivoluzione, anche i caratteri mobili, molte sono state le rivoluzioni, nessuna però come questa ha le qualità di velocità e vastità, velocità di diffusione istantanea, vastità della diffusione globale, nel senso del globo terrestre. Quindi non ci dobbiamo stupire se questa rivoluzione che stiamo guardando con i nostri occhi, vivendo con la nostra psicofisicità, produce tanti effetti, alcuni positivi, molto positivi. Noi abbiamo tutti in tasca degli strumenti meravigliosi, talmente meravigliosi da essere seducenti, talmente seducenti da rappresentare un pericolo, perché la loro velocità di funzionamento è strepitosa e ovviamente la comodità di usarli è incommensurabile, non c'è paragone con quello che accadeva anche solo un quarto di secolo fa. Ma lì sta anche il pericolo e dunque questo breviario o compendio vorrebbe indicare alcuni degli elementi dai quali siamo circondati e parte da una frase di Petrarca che proprio ho trovato adattissima a condensare lo scopo del libro che dice che bisogna guardare contemporaneamente avanti e dietro, simul ante retroque prospicens. Perché bisogna guardare avanti e dietro? Avanti cercando di intuire nella velocità con la quale i cambiamenti avvengono, cercando di intuire quale direzione si sta andando. Per esempio ci sono due capitoli sull'intelligenza artificiale che indicano, fanno con esempi concreti, la direzione vorrei dire spaventosa e nello stesso tempo entusiasmante nella quale l'intelligenza artificiale ci porterà di qua a poco. Faccio solo un esempio che è facile da riferire in poche parole. Noi sappiamo tutti chi ha avuto esperienze di degenza che tra il paziente e il medico o l'infermiere si sviluppa un rapporto affettivo perché quello viene lì e entra, viene accanto a te, ha il camice, ha lo stetoscopio, ha le medicine, ha la cura, ti può salvare diciamo e dunque tu stai sdraiato in pigiama e lo guardi e senti un trasporto verso quell'uomo o quella donna che è lì per assicurarti possibilmente l'uscita. Allora siccome tra o non molti anni molte mansioni infermieristiche saranno svolte da robot i quali entreranno puntuali e cambieranno la flebo, daranno la pasticca, faranno l'iniezione al momento giusto, nella dose giusta, la domanda che ci si pone è è possibile che lo stesso rapporto affettivo tra virgolette si sviluppi tra un essere umano e una macchina la quale fa tutto quello che fa perché è stata programmata per farlo e non c'è empatia nella macchina, c'è l'obbedienza a un programma e la domanda come capite è fondamentale perché se così fosse come probabilmente sarà questo significa impiantare ex novo una serie di rapporti tra uomo e macchina che ci porteranno, che vi porteranno, che porteranno i nostri nipoti chissà dove è un mondo, quello dell'elettronica è un mondo senza confini questo per guardare avanti con un esempio, qua ce ne sono ovviamente molti altri e il discorso è più articolato e nello stesso tempo saper guardare anche alla storia che ci ha portato qua e lo dico davanti a un valente storico qui presente alla storia che ci ha portato qua perché se saltiamo i passaggi attraverso i quali siamo arrivati dove siamo rischiamo di non capire niente e di perderci più facilmente ora questo discorso riguarda soprattutto i giovani i quali sono, possono essere sedotti dalla facilità entusiasmante con la quale questi apparecchi funzionano e perdere di vista il fatto che se non crei il collegamento non capisci più niente tanti episodi atroci, feroci dissennati di cui leggiamo nelle cronache dipendono proprio da questo che ormai non ci sono più i collegamenti e si sono perse alcune dimensioni del vivere insieme un capitolo per esempio ha un titolo insomma da barcollare e si chiama Dio e si chiede sulla base di alcune notevoli argomentazioni ed esempi che fine ha fatto Dio nella nostra società voi notate che non c'è più un romanzo o un film cioè gli strumenti della comunicazione collettiva nel quale il problema del divino venga raccontato esposto come un fatto della quotidianità pensate che cos'era la letteratura e la poesia ancora nell'ottocento nel tardo ottocento rispetto alla divinità pensate al fatto che a cavallo tra otto e nove si sviluppò tutto quel movimento laicista quello si e anticlericale che massonico che in Italia pure e a Torino ha avuto applicazioni forti il quale era un movimento che per il fatto di essere così violentemente anti dimostrava però l'interesse oggi non c'è nessun movimento anticlericale da parte un'associazione che non nomino che insomma un poco al limite perché Dio è stato relegato in un angolo della tensione collettiva ci preoccupano altre cose si preoccupa la situazione economica quella sanitaria abbiamo avuto la crisi dal 2008 al 14 sei anni di crisi terribili poi è arrivato questo flagello sono altre i danari il corpo tutte cose di cui si parla nel libro sono queste le cose che assorbono la maggior parte della nostra attenzione una notevole due o tre capitoli sono dedicati a noi italiani a noi italiani per cercare di capire chi siamo chi siamo cosa è difficilissima per noi e anche per chi ci guarda da fuori noi noi siamo un popolo un paese ambiguo noto per qualità e doti opposte paese della corruzione della criminalità che governa di fatto zone notevoli del territorio della faciloneria ma anche il paese dell'eccellenza di tante cose nel design nella moda nella cucina nella meccanica fine lo dico una cosa che ho scoperto pochi anni fa che noi siamo i più apprezzati produttori e manipolatori di meccanica fine in Europa sorprendente in un paese allora chi sono gli italiani quelli o questi tutti e due e questo contribuisce alla nostra e allora la domanda da perché siamo così la domanda che ci si fa qua dentro è perché siamo così e le risposte sono tante alcune sono esposte siamo un paese geograficamente infelice voi pensate che cos'è stata l'unità nazionale preparata e portata a compimento da una piccola città come questa situata all'estremo confine nord occidentale del territorio con un territorio che si allungava per più di mille chilometri fino a raggiungere la Sicilia che buona parte è a sud della Tunisia da Torino che sta in mezzo alle Alpi possiamo dire capite che impresa pazzesca e dissennata providenziale sia chiaro è stata quella e da qui viene un altro capitolo che cerca di capire che cos'è che definisce una nazione lì mi sono ispirato a un saggio bellissimo di Renan che cos'è che definisce una nazione la lingua ovviamente io parlo italiano voi parlate italiano noi ci capiamo noi scriviamo e leggiamo in questo codice e va bene la lingua ma la lingua non basta e Renan elenca tante altre cose avere patito gli stessi mali avere goduto delle stesse cose l'esempio più stupido più banale una vittoria della nazionale di calcio oppure i patimenti della guerra dell'occupazione nazifascista che gran parte non tutto ma gran parte del paese ha sofferto ecco ma tutto questo non basta ancora e Renan va fino alla fine quando dice la capacità di ricordare molte cose che accomunano e di dimenticare molte cose che dividono questa guardate che è un'osservazione finissima perché perché faccio l'esempio più scontato da qualche decennio da un paio di decenni a questa parte è risorta una pubblicistica neoborbonica la quale dice l'unità d'Italia diciamo 59-70 per arrivare fino a Roma l'unità d'Italia ha depredato il sud non solo della sua tradizione dei suoi costumi del suo passato ma anche proprio materialmente dei suoi danari e da allora non ci siamo più ripresi buona parte del nord in questa parte qui ma ancora di più nella parte nord orientale dice se non ci fosse quel sud dal volturno in giù noi saremmo uno dei paesi più ricchi d'Europa questa è una disputa o polemica o diatriba che non si risolverà mai va avanti da decenni e non si è mai risolta allora Renan dice varrebbe la pena è uno dei casi di questo lo dico io in cui varrebbe la pena dimenticarla metterla da parte e a partire da da oggi così si fa per dire basta dimentichiamo quella roba lì da oggi in poi puntiamo solo verso il futuro che è comune che non può che essere comune i conati i leghisti di parecchi anni fa secessionisti c'erano delle cose violente e ridicole nello stesso tempo si sapeva che non si sarebbe mai fatto prima che la Lega naufragasse dove vabbè bisogna guardare alto perché se no poi si scivola in basso e poi non va bene ecco questo libro è un po' questo non so se questi argomenti vi hanno interessato ovviamente ce ne sono molti altri sto cercando l'indice devo posare il microfono beh per esempio per alleggerire un po' il discorso diciamo per rendere c'è un capitolo dove si traccia il confine possibile tra eros e porno tra erotismo e pornografia siccome la pornografia dilaga io ricordo ai tempi del ginnasio se io mi togliessi la gioca sarebbe un gesto io ricordo ai tempi del ginnasio certe foto che giravano furtivamente tra tra i ragazzi dove non si vedeva non si vedeva praticamente niente erano tutti neri oggi qualunque adolescente ha a disposizione tutta la pornografia del mondo ad apertura di computer allora quella è una roba che è una roba insomma da seguire con cura perché non c'è nulla di male nella pornografia diciamo la verità però bisogna saperla guardare per così dire bisogna è uno dei tanti dei tanti temi offerti da queste macchinette geniali che vanno saputi maneggiare ecco l'ambizione di questo libro sarebbe anche un po' pedagogica di di insegnare insomma di suggerire qualche piccola manovra o prudenza per manovrare queste macchine utilizzandole come vanno utilizzate senza farsene impadronire perché quello è il rischio di tanti giovani di restarne vittima e allora la pornografia e l'erotismo è un tema che insomma ci sono delle galanterie settecentesche è un tema carino che si legge e nello stesso tempo può suggerire qualche cosa beh per esempio Elena quanto devo parlare? eh? no sono le sette un altro quarto d'ora? va bene per esempio un altro capitolo che mi ha molto interessato fare la ricerca e scrivere è quello sulla anche questo è un portato della nuova civiltà è quello sulla appiattimento e banalizzazione della vita pubblica a cominciare dalla diminuita dal diminuito prestigio dei rappresentanti in parole povere i politici di una volta erano molto più autorevoli e competenti di quelli di oggi alcuni dei quali veramente sono figure insomma così disdicevoli di cui si parla malvolentieri senza cadere nell'invettiva perché questo accade perché questo accade perché questi strumenti hanno introdotto due elementi che prima c'erano ma non in maniera così accentuata uno è il presentismo come l'ha battezzato Giuseppe De Rita e cioè il fatto che tutto si schiaccia sul presente d'onde per esempio per parlare della scuola per tornare a parlare della scuola l'ignoranza e il disinteresse da cui viene l'ignoranza per la storia tanto che voi ricordate tutti tre anni fa non di più si pensò di togliere l'esame il tema o l'esame di storia dalla maturità insomma delle cose aberranti il presentismo è un portato e l'altro è l'incompetenza io ho sentito con le mie orecchie molti di voi l'avranno sentito una una membra del governo un paio d'anni fa opporre a un raffinato ragionamento economico di Piercarlo Padoan che allora era ministro dell'economia la frase e vabbè lei ha studiato e allora cioè vi rendete conto dell'abisso che si apre con una frase del genere lei ha studiato e allora come ma pezzo di asino che stai dicendo lui ha studiato e tu no lui sa le cose e tu non le sai però quella frase passò perché l'incompetenza non fa non ci si vergogna più dell'incompetenza un ministro che debba avere frequenti rapporti con in Europa e fuori dell'Europa e che non sappia e che non sappia dire good morning how are you today what a fine day tutte le stronzate qualunque in inglese un ministro che non sappia dire una cosa del genere con la dovuta disinvoltura parte con un handicap che può diventare molto pesante nel rapporto c'è l'interprete ovviamente come c'è qua la nostra valorosa interprete gestuale diciamo però non è la stessa cosa perché io lo so nei conciliaboli nei capannelli quelli che avvengono fuori delle riunioni col tavolo tondo col cartellino e l'acqua minerale nei conciliaboli e poi dopo vale il rapporto personale il rapporto personale è importantissimo l'affabilità la cordialità la strizzata d'occhio con la quale tu stabilisci una cosa che può diventare un'intesa politico-economica fondamentale se non lo puoi fare perché non lo puoi fare con l'interprete se non lo puoi fare prendendo quello sotto braccio e portandolo a prendere un caffè sei handicappato l'incompetenza capite a parte poi il capitolo si chiama se ci troveressimo perché è la è la frase che ha detto che non si capisce se è condizionale o congiuntivo è il verbo usato da un deputato un giorno in un avanti diffuso per televisione a sua vergogna se ci troveressimo una cosa e questo questo è portato perché è portato da quelle macchinette perché ogni fruito tutti siamo fruitori di notizie ma oggi ogni fruitore di notizia è anche un produttore di notizia se io mi metto a digitare su qualunque rete sociale che il tizio il tal signore è un corrotto che ha rubato i soldi della sua amministrazione così perché voglio fargli un dispetto protetto dall'anonimato mando in rete questa cosa dopo ore qualche ora potete stare sicuri che ci sono sotto like e commenti e la reputazione di quel signore è gravemente compromessa cioè confuso presente il titolo ma è anche forse bisognerebbe dire drammatico presente e poi chiudo questa disordinata ah no vi dico un'altra cosa che forse vi può interessare no non ve la dico perché è lunga no invece no dico un'altra cosa ho dedicato due capitoli a due figure che mi fanno sono molto contento di avere conosciuto e che mi fanno compagnia nella vita uno è Michel de Montaigne e l'altro è Baruch Spinoza sono due uomini molto diversi l'uno dall'altro intanto per i secoli diversi cinque sei cento in cui sono vissuti poi per condizione sociale Montaigne era un agiato signore del Baudelè sindaco e poi castello aia servitù contadini le oche i maiali alta torre isolato lassù guardava quel secolo terribile che è stato il cinquecento pensate la riforma Lutero l'accessione anglicana il concilio di Trento che ha spezzato la storia italiana le guerre di religione in Germania fiumi di sangue protestanti contro cattolici ecco Michel Michel Montaigne guardava queste cose e le commentava con una vena di scetticismo che non era disinteresse era lo sguardo lungo di chi capisce l'umanità e distilla dei pensieri che possono essere utili a quel avrebbero potuto essere utili a quell'umanità e che sono utili anche a noi oggi cinque o sei secoli dopo e Baruch Benedetto Spinoza sefardita fu scampata ai pogrom del Portogallo rifugiato nelle Fiandre in Olanda che comincia a disegnare un'idea di Dio che prescinde permettetemi di dire dall'iconografia un po' infantile di un signore anziano con la barba bianca il triangolo dietro la testa che tiene Dio e l'essere perfettissimo che tiene la contabilità di sette miliardi di individui e annota in un suo libro i buoni e i cattivi perché questo sostanzialmente dice diceva non so se lo dico ancora il catechismo è una una riduzione della divinità a un gioco per bambini delle elementari Baruch Spinoza dice ma per carità dimenticate tutto questo Dio è l'infinitezza dunque non può avere rapporti con noi perché l'infinito col finito quale noi siamo non può entrare in contatto Dio è l'ordine cosmico nel quale rientrano movimenti degli astri lui dice Deus Sive Natura Dio o la natura che non vuol dire l'albero il ruscello l'uccelletto che cinguetta sul ramo anche quello ma tutto l'infinito cosmo nel quale siamo parte insignificante come pianeta terra come nazione Italia come individui moritori una visione che cambia una visione che cambia il rapporto di noi con la nostra stessa esistenza e con lo stare nel mondo ecco sono due figure di cui consiglio vivamente oltre che alla lettura dei capitoli relativi anche quella dei rispettivi libri e vi ringrazio grazie io posso eventualmente ripetere a voce alta le domande che arrivano ma ne avrei subito una io posso 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 cominciare io perché sei padrone no sono sono ospite in tutti e due i sensi allora io credo che questo presente adesso sia un po' meno confuso per tutti noi e ti ringrazio di questo grazie e lo sarà ancora meno una volta che avremo e avrete letto il libro però c'è una domanda che vorrei farti forse per rompere il ghiaccio anche se forse non c'è bisogno di rompere il ghiaccio tu hai detto una cosa che secondo me è importantissima citando Renan sulla questione della necessità dell'oblio perché viviamo in una società che ha fatto della memoria di per sé un valore e dell'oblio un disvalore allora e ho qui davanti uno storico quindi non posso che chiedere a Corrado Aujas ma magari anche chi ha voglia di intervenire su questo tema su come possiamo noi in questo confuso presente trovare l'equilibrio tra una necessità imprescindibile di dimenticare più che mai forse dopo quello che stiamo attraversando e il rispetto di quella memoria che è fondativa del futuro la risposta è una domanda sempre complicata ma la risposta in realtà è semplice perché presuppone un atto volontario l'oblio di cui parla Renan e che io ho ripreso lì non è l'oblio dell'indifferenza della trascuratezza no è l'oblio come l'oblio di chi sa come sono andate le cose l'oblio di chi decide che quella cosa deve essere dimenticata quella è ciò che salva quell'oblio dal ragazzetto che ignora la storia perché non gli andava di studiarla per fare un esempio basso basso è quello è quello che invece sa perfettamente come sono andate le cose e decide per la salute collettiva di dimenticarlo quindi ancora una volta è un problema di conoscenza alla fine in fondo a tutto questo libro c'è un disperato che rivolgo soprattutto in primo luogo a me stesso sia chiaro c'è un disperato grido come fosse cerchiamo di sapere più cose possibili e di metterle in rete nella nostra testa quello sì perché soltanto se tu sei capace di collocare le cose in un diagramma non voglio dire di valori ma anche soltanto un collegamento di logica tu puoi cercare presumere di capire qualche cosa di quello che sta accadendo vedete quante quante persone quante persone smarrite ci sono perché una volta e qui un'altra c'è un bel capitolo mi fa venire in mente Elena c'è un bel capitolo che si chiama questo devo leggere mi dispiace per lei devo leggere qualche riga questo aspettate perché questo vale la pena vale la pena ecco 107 perché vedete una volta questo capitolo comincia con dei versi di Pasolini Dio letti di seta dei bucati delle famiglie operaie ma col fuoco delle ciliegie dei pomi violetto per l'umidità sanguigno per un po' di sole che lo colpiva ardente rosso nella tenerezza eroica d'una immortale stagione qui Pasolini che alle volte diventa lirico quasi alla Pascoli qui Pasolini rimpiange evoca evoca l'epoca delle ideologie che voleva anche dire l'epoca dei partiti politici che tenevano insieme un paese noi siamo stati tenuti insieme per mezzo secolo da due grandi partiti che erano la democrazia cristiana e il partito comunista più contorni quei due grandi partiti tenevano insieme il 70% circa degli italiani erano il nostro collante quella era una cosa l'altra cosa era la religione la religione se volete anche nel senso più più banale infantile la religione del prete che ammoniva dal pulpito le ragazze che fingevano di arrossire se quello le guardava quelle robe lì quelle robe lì così patetiche contribuivano a tenere insieme una società oggi non ci sono più né quelle né queste lo smarrimento viene da lì ci sono domande che io posso trasmettere al microfono chiedo scusa domande brevi proprio perché devo fare la traduzione che io ho 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 Grazie. Alla disabilità, come la disabilità può affrontare questo presente confuso? La disabilità fisica. Guardi, è una domanda che mi addolora. La disabilità fisica non impedisce la conoscenza. Questa è la prima risposta che mi viene in mente. Se io sono stato per alcuni mesi su una carrozzina perché avevo una gamba inutilizzabile per stupidaggine mia, ho approfittato di quei mesi, che era un periodo temporaneo, non voglio fare nessun paragone, sarebbe offensivo con chi questa disabilità se la porta presso. Beh, ho approfittato di quei mesi con una tavoletta messa sulla carrozzina per lavorare molto di più di quanto non lavorassi normalmente. Non avevo distrazioni, non potevo uscire da lì. Ecco, la conoscenza è una cosa e poi ci sono altre doti che qui non voglio per delicatezza. La sopportazione, la pazienza, l'affetto di chi ti sta accanto, ma questo ovviamente esula da una discussione di questo tipo. Grazie, c'era la signora prima. Vi raccomanderei domande brevi così diamo spazio a tutti. Macchinetta infernale. Sono un po' duro d'orecchi, signora, devo confessare? Sì. E' meravigliosa, ho detto. Adesso traduco, non preoccupate. Dice che quei nativi digitali sono gli unici in grado di comunicare. Non sono d'accordo. Senta signora, sono in grado di fare ben altro, perché ognuno di noi sono convinto a un figlio o un nipote, come nel mio caso, al quale i miei non stanno in Italia, ma io gli devo telefonare dove stanno dicendo senti, ma se io spingo qua e per lui non viene, che devo fare? E lui da là me lo dice. Capisce? Quindi questo segna un passaggio epocale. è uno degli elementi che segnano la... Io non ho parlato di rivoluzione per usare un termine altisonante, io ho parlato di rivoluzione perché questa è una rivoluzione. Che vuol dire rivoluzione? È una cesura. Lo sanno bene gli editori. E lo sanno bene gli editori quotidiani. Che cosa vuol dire continuare a vendere prodotti di carta nell'epoca digitale? È una cesura. Questa qui, la carta, che è la erede, la figlia, la nipote della tavoletta di terracotta, del papiro, della pergamena, ci voleva un greggio di pecore per stampare, per scrivere una Bibbia ai tempi della pergamena, la pelle di un greggio di pecora. Poi è arrivata la carta e questa civiltà della carta adesso sta finendo e ne sta cominciando e ne è cominciata un'altra. Non vuol dire che i libri di carta non ci saranno più, vuol dire che a poco a poco saranno io stesso che sono vecchio, ormai i libri di consultazione li guardo sul computer, compro i libri di carta, quelli affettivi, quei romanzi, quelli che leggo la sera dopo o la giornata. Quindi, amica mia, quando parlo di rivoluzione dico una cosa vera. Posso aggiungere una cosa, poi sto zitta promessa. L'editore forse vuole dire qualcosa? Il direttore generale dell'Ainaudi si pone una domanda da adolescente. Gli darò una risposta di fatto. Allora, sa sentire. Aspetta che lo devo trovare perché è divertente tra l'altro, intendiamoci bene. e divertente e anche, diciamo, istruttivo. Allora, io ho fatto l'esempio per rendere evidente la risposta alla domanda ora avanzata, prendendo un racconto del Settecento, opera di Vivant Denon. Vivant Denon è quello che ha inventato il Louvre praticamente, però è stato anche autore di un racconto bellissimo, molto seducente, che si chiama Poin de l'endemain, senza domani in coso. E che cosa racconta? Racconta di una notte di amore di un cavaliere, il quale viene invitato in maniera decisa a teatro da una dama ad andarla a raggiungere a casa sua, lui la raggiunge a casa sua, passeggiano nel giardino, poi entrano in un padiglione. Nell'entrare avemmo un fremito, era un santuario, quello di amore, egli si impossessò di noi, le nostre ginocchia si piegarono, le nostre deboli braccia si allacciarono e non riuscendo a sorreggerci andammo a cadere su un divano che occupava una parte del tempio. Sentite la reticenza che adesso arriva, nel senso di figura retorica. Dante, quel giorno più non vi leggemo avante, Paolo e Francesca. La luna tramontava e presto il suo ultimo raggio si portò via il velo di un pudore che credo diventasse importuno. La mano che voleva respingermi sentiva battere il mio cuore. Colei che voleva fuggirmi ricadeva ancora più in Tenerita. Tutto è detto, nulla è detto. Questo è l'erotismo. Questo racconto ebbe qualche anno dopo una versione porno e la leggo, è porno, ma tanto siamo tutti maggiorenni. Con le gonne sollevate, fin sopra le anche la signora di Terviglia si era seduta su di me. Il contatto ravvicinato dalle sue morbide rotondità secondava a meraviglia l'energica azione dello strumento del nostro piacere una delle mie mani risalita lungo la coscia, eccetera, eccetera. E va avanti così. Ecco la differenza tra l'erotismo e la pornografia. Nella prima versione, l'azione, i gesti sono narrati con il ricorso a immagini e metafore. Nella seconda tutto viene esplicitamente dichiarato per andare velocemente alla conclusione. La letteratura erotica fa del lettore il suo complice. Non lo assale, lo blandisce. Potremmo dire che danza con lui. La pornografia afferra invece il lettore o lo spettatore per il collo e lo sbatte sul letto a fare virtuale compagnia ai protagonisti. Però lei in audio dovrebbe farci una riflessione su per una nuova collana, direi, in questo punto. Beh, decidete voi. Delle due l'una. È chiaro, no? È chiaro? È chiaro. Volevo aggiungere una nota breve prima di lasciare le ultime di hai due domande. Il paradosso di questo passaggio, di questa fine della carta sta in un fatto segnalato dal grande Amos Sosi in un suo libro in inglese in cui si è passati da tablet, perché la tavoletta antica, così si chiamano in inglese, al tablet. Quindi forse c'è una certa continuità che dobbiamo... No, onomastica, diciamo, perché poi in realtà le funzioni sono... Guardate, io ero... Dottor Franco, io ero ostile o indifferente o ostile ai libri digitali. Poi da qualche tempo invece ho imparato... Beh, libri di studio e di consultazione, quelli digitali, sono infinitamente migliori di quelli di carta. Io prendo delle note, segno delle pagine che mi interessano, ricerco quelle che si chiamano le occorrenze, segnalo una cosa, lui mi dice questa parola, viene ripetuta 96 volte nel testo, cerco una citazione e lui, pam, fulminiamente mi manda la pagina dove la citazione... sono degli strumenti formidabili e mi sono innamorato. Allora abbiamo ancora due domande, brevi. Sento il diaframma. Sento il diaframma. non lo so guardi quello che no no aspetta fermo si fermi lì perché sennò non va bene casomai dopo riprendiamo guardi lei ha fatto una domanda fondamentale una delle ragioni per le quali rischiamo di perderci è che l'informazione viene scambiata con la conoscenza attenzione questa è una cosa fondamentale secondo me cioè io nelle macchinette famose trovo l'informazione in maniera istantanea quando studiavo dovevo andare in biblioteca all'università sfogliare i libri passarci mezzo pomeriggio oggi ce l'ho lì in maniera microsecondi nanosecondi ma quella non è la conoscenza quella è l'informazione la conoscenza la conoscenza è saper mettere quella informazione in un contesto in relazione con altre cose che la precedono la seguono cause e effetti date prima e date dopo collegamenti con altre cose quella è la conoscenza lì io so di sapere se no se dice quando è morto Napoleone il 5 maggio 1821 è giusto ma chi se ne frega non è una informazione non è una conoscenza è una data giusta che non significa niente perché io sapere eccetera ci siamo capiti l'ultima domanda quando parlavate da conoscenza 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 essere un'elite l'elite conoscenza significa essere un'elite ma lì c'è lì c'è lì c'è aiuta Gramsci mi scusi signore no lì lì Gramsci ha detto delle cose fondamentali è un grande nostro tra l'altro qui proprio sta di casa e Gramsci ha detto attenzione l'intellettuale cioè l'elite se lo vuole dire in un altro modo è chiunque sappia faccia con consapevolezza e al meglio delle sue capacità il suo mestiere arrivo a dire un po' paradossalmente che l'umile ne turbino che cerca di tenere pulita quella strada consapevole che così facendo contribuisce alla salute di quel pezzo di città che gli è stato affidato quello è un intellettuale quella è un'elite laddove il giornalista che faccia il suo mestiere sciattamente senza controllare le notizie lasciandosi andare ad un italiano sgangherato quello è un povero fesso che non merita non solo il titolo di elite ma neanche quello di giornalista per quanto il mestiere sia ormai un po' degradato grazie grazie a tutti grazie a tutti